rieccoci su radio web in volo è tornato a trovarci massimo rastelli e per parlarci di una cosa completamente diversa rispetto a terra rossa ovvero di questa sua opera dedicata a marino capicchioni un'eccellenza di san marino a cui ha dedicato appunto un libro il genio capicchioni grande maestro e meraviglioso artista e nonché è stato anche dedicato anche un documentario realizzato da san marino rtv sempre intitolato appunto il genio capicchioni una famiglia di gli utai e musicisti un'eccellenza nell'arte della produzione di violini e strumenti fondamentalmente strumenti ad arco io tanto ti ringrazio per essere di nuovo qui con noi è stato veramente molto interessante poi avrò modo anche di conoscere meglio questa eccellenza appunto di san marino nella serata del 18 novembre e dove si terrà questo evento questa presentazione del tuo libro dunque la presentazione ufficiale a san marino come è stato detto avverrà lunedì 18 novembre alle ore 17 30 alla biblioteca di stato c'è un motivo per cui viene fatta questa presentazione in questo luogo perché in questa occasione verrà suonato il violoncello prodotto da marino capicchioni nell'anno 1973 dal giovane violoncellista san marinese francesco stefanelli come conosciuto appunto questo questo personaggio ha avuto modo di conoscerlo anche di persona immagino di persona non l'ho conosciuto anche se penso di averlo visto perché lui è nato a santa mustiola anche se poi è abitato a rimini per quasi tutta la vita e io sicuramente l'ho visto ma non posso dire di avere un ricordo suo perché non questo non posso dirlo insomma sì perché se non ricordo male lui è nato nel 1895 ed è morto nel nel 1977 quindi come è conosciuto appunto la sua attività appunto come luttaio e anche la sua grande arte perché comunque è stato un maestro proprio riconosciuto dal punto di vista artistico proprio dalla produzione di questi strumenti di questi archi la cosa è abbastanza strana perché io prima del 1984 anno in cui venne dedicato da san marino un monumento e venne anche titolato una piazza a marino capicchioni io non ne sapevo assolutamente niente di questo personaggio poi devo dire è stato così una cosa che è andata avanti nel tempo ho raccolto via via delle informazioni devo dire che poi mi sono servite addirittura delle chiacchierate fatte con mio nonno 30 anni fa in cui lui mi parlava di questi personaggi perché c'è da dire che va bene marino capicchioni è il personaggio chiave di questo racconto però ci sono altri personaggi in particolare nel romanzo di cui viene raccontata la vita e quindi diciamo piano piano si è composto l'insieme delle informazioni che mi hanno consentito poi di scrivere questo romanzo e di girare questo documentario in questa serata appunto ti sarà possibile sentire uno dei violoncelli che insieme a una viola e un violino sono custoditi proprio alla biblioteca di stato al museo di stato sono presenti tre strumenti praticamente c'è un violino dell'anno 1953 la viola dello stesso anno 1953 e il violoncello del 1973 in pratica questo violoncello però attualmente è stato dato in uso a un giovane violoncellista appunto francesco stefanelli è un ventenne molto promettente nell'ambito degli interpreti degli strumenti ad arco tra l'altro è stato di recente selezionato per l'orchestra dell'accademia di santa cecilia roma quindi è veramente un'eccellenza anche lui della musica san marinese in pratica attualmente gli strumenti alla biblioteca di stato sono soltanto due e dico per fortuna il violoncello viene al momento suonato che penso che sia un po anche una bella sorte per un per uno strumento musicale quello di non stare in una bacheca ma quello di essere eseguito per della musica rimando alla sera del 18 un approfondimento di questa tua passione appunto per questo personaggio davvero affascinante anche perché pare che i suoi strumenti fossero riconosciuti anche a livello internazionale come a livello di fattura strumentisti molto molto esperti consideravano che il suono dei suoi violini fosse ineguagliabile poi tu hai raccontato anche di io sbrighi che ha imparato dal figlio il mestiere di liutaio comunque c'è un'eredità di marino capicchioni a livello san marinese anche nel presente quanto grande secondo te l'eredità di capicchioni? i violini sono opere d'arte che poi mantengono il loro messaggio nei secoli quindi sicuramente fra 100 anni fra 200 anni i violini capicchioni saranno ancora lì con il loro con la loro presenza fisica a testimoniare quest'arte questo è già una grande eredità perché se pensiamo che stradi vari siamo giunti ormai a 300 anni dalla nascita più o meno e 270 dalla morte quindi praticamente sono delle opere d'arte che non sono come un quadro che sono lì a farsi solo ammirare ma queste addirittura emettono ancora suono dopo secoli quindi una prima eredità è questa poi velocemente chi leggerà in particolare il romanzo capirà che questo genio capicchioni non si riferisce soltanto a marino ma si riferisce a tutta una serie di personaggi a italo capicchioni ai figli di italo che sono dei musicisti anche loro a mario capicchioni che è il figlio di marino dalla parte dell'altro figlio luciano anche lui violinista c'è un nipote che continua l'arte della musica e quindi il genio capicchioni da intendere come una scintilla che diciamo a san marino ha brillato in più personaggi poi volendo concludere anche l'allievo di mario capicchioni pio sbrighi anche lui fa parte dell'eredità e di fatti nel romanzo ho voluto dedicare una piccola parte anche a lui perché in qualche modo l'eredità dello stile capicchioni continua come un personaggio seppur riminese che comunque fa parte degli eredi va bene io ti ringrazio e poi ci sicuramente rincontreremo per il 18 e alla biblioteca di stato appunto di san marino alle 17.30 alle 17.30 e anche perché io sono molto curioso di approfondire questa cosa anche io non conoscevo questa storia e da san marinese è importante comunque conoscere le eccellenze che hanno dato lustro al nostro territorio e chiudo ringraziandoti appunto per essere stato di nuovo qui con noi grazie a voi volevo solo aggiungere che c'era presente alla presentazione anche Laura Rossi che ha scritto la prefazione al mio romanzo e quindi assieme all'editore assieme a Francesco Stefanelli daremo un saggio di quello che è stato questo lavoro fantastico grazie mille e grazie anche a voi che ci avete seguito e buon proseguimento su Radio Web in Volo e ci vediamo il 18 grazie a tutti